allora sono sul mio dispositivo mobile a me interessa la mia ultima gara che è il trofeo carrefour clicco sul link aspetto che si apra l'articolo vado su cliccando qui apro il primo album che mi interessa vedere scorro velocemente le foto ipotizzo che io voglia prendere questa foto di gruppo dei nostri amici di genzano la vedo interessa se vedete in basso a sinistra ci sono tre palline è una freccettina io clicco su una freccettina e mi scarica l'immagine quindi non avrò fatto uno screenshot e avrò ovviamente una buona immagine da mettere sul mio social e soprattutto un'immagine che si veda bene senza quel via details apro l'immagine per vedere se è veramente quella ok è questa a me interessa questa dal mio dispositivo ossia dal mio telefonino clicco qui e la condivido dove voglio nulla di più facile così voi avrete le foto in buona risoluzione e noi saremo più contenti perché l'apprezzerete ancora di più